Buongiorno, non è né giovedì né nulla, è lunedì e questa sera farò una lezione semplicemente per coloro che si sono iscritti alla mia scuola sulle relazioni tossiche. Stasera il tema è le dipendenze di qualunque tipo ma soprattutto la dipendenza affettiva. Beh, perché non ho fatto solo un semplice annuncio e faccio questo video, anche che è visibile anche a coloro che non sono iscritti alla scuola, perché questa storia delle dipendenze e della dipendenza affettiva in modo particolare distingue la mia scuola da tutte le altre psicoterapie. Noi quando parliamo di dipendenza affettiva, il padre e la madre della dipendenza affettiva qual è? Il padre è che i nostri occhi vedono correttamente la realtà e rispecchiano correttamente una realtà che è fuori di noi. E la madre è che io voglio, do un valore a una persona o a un qualunque cosa e quest'organo tende a rendere felice il nostro corpo, il nostro quadrone. Se do valore a qualcosa gli animali danno valore solo col corpo. Noi diamo valore anche con la nostra mente. Gli animali danno valore col corpo, poi la mente non c'è quando l'animale si muove verso la realizzazione di ciò che vuole. Non solamente dà valore, fa ipotesi che riguardano il futuro, che posso averlo, posso non averlo e tutto muta nello stesso tempo. Allora, il padre della dipendenza affettiva è che i miei occhi vedono correttamente, la madre è dare valore a qualcosa. E nel dare valore voglio rendere permanente ciò che permanente non è. E se credo fermamente che esista una realtà oggettiva fuori di me, io sono qui e il mondo esterno è là, è chiaro che il mio cervello agirà esattamente come quando ero un piccolo animalino da bambino, come tutti gli animali. cercherò di colmare questo mio bisogno o desiderio prendendo qualcosa da un mondo oggettivo. Ora, la tragedia dell'uomo è che l'uomo non vede. E quando fa così rischia addirittura, se non vedesse basta non sarebbe nulla, di vedere esattamente il contrario, cioè quello che teme. Desidero questo, faccio ipotesi, non sono onnisciente, posso solo sperare ma non mi piace per nulla. Questa è la base della dipendenza affettiva. Se non tocchiamo questi punti, le persone rimangono dipendenti da questo meccanismo del desiderare qualcosa di oggettivo, di voler colmare un loro bisogno e di volerlo sapere anche prima di partire. Perché facendo ipotesi, se io desidero molto una cosa, temo anche, se non sono onnisciente, temo anche di non raggiungerla. raggiungerla e non raggiungere qualcosa che colmerebbe il mio bisogno e mi renderebbe felice, che è una torta gelata o qualcosa di buono? O un fallimento su questo punto è peggiore di un leone che ci vuole azzannare? Vi lascio con questa domanda, pensateci un po', questa è la differenza terapeutica della mia scuola, questa è la differenza che distingue me da tutti gli altri psicologi, dagli psicologi, poi non ne parliamo, e da tutti gli altri psicologi. questa è la differenza, e perché ho voluto fare una scuola? Perché noi abbiamo, per risolvere questo problema, per risolvere questo, per uscire da questo guado fra il desiderabile e il temibile, abbiamo bisogno di verità, e ci sono due modi della verità, o l'accordo fra più, tra due persone è una verità, oppure, riuscire con una capacità introspettiva a raggiungere la base del guado, tra il desiderabile e il temibile, e tentando di uscire a dire, di uscire a dire, ma non sono nascente, quindi non mi piace, mi tocca solo sperare, devo fondare la mia vita, su qualcosa che ho sempre scartato, e cioè la non permanenza della vita, come l'unica certezza, la non garanzia, questo è il pilastro su cui costruire la vita, è la mia scuola, vi aiuta a costruire la vostra vita su questo pilastro, è una via stretta, tutti pigliano una via larga, ma quando i tutti soffrono su quella via larga, tutti si soffrono sulla via larga, allora, non c'è nessun'altra alternativa, che la mia via stretta, che la mia scuola, vi offre. Buongiorno, ci vediamo stasera, per quelli che sono iscritti, per gli altri, che facciano un pensiero. Ciao!